buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo video allora si o la barbazza lo so me la taglierò a breve ma intanto al momento ce l'ho quindi me la tengo che dire iscrivetevi e poi commentate anche insomma fate quello che volete perché oggi facciamo un video breve in realtà un video lungo ma secondo me molto interessante per gli amatori di velivoli aerei che sono cambiati nel tempo e in particolar modo vi farò vedere dei modellini che ho acquistato qualche giorno fa a prezzi veramente anche bassissimi in realtà anche se non sono messi molto bene ce li guardiamo insieme e vediamo la storia di quei quattro velivoli dopodiché facciamo le conclusioni ebbene i modellini in questione sono in questo caso questi quattro eccoli qua ora ci andiamo a vedere bene vediamo di cosa si tratta ma chiaramente oltre quei modellini ce ne ho anche altri due che sono un po più moderni ma ce li guardiamo lo stesso ok iniziamo da questo bellissimo modellino with air questo l'ho preso poco tempo fa è un modellino in plastica e rappresenta praticamente la airbus a 321 neo della uiz air appunto che attualmente opera nelle tratte di corto e medio raggio in europa allora questo è molto carino questo volo è bello anche dentro sinceramente io preferisco il 320 e ancora meglio il 321 neo come in questo caso rispetto al classico 737 della boeing e i posti anteriori e anche qualche posto al centro però in particolar modo i posti anteriori la prima fila sono posti extra large ed extra large veramente sia di lunghezza sia chiaramente di larghezza e spesso non è così molto più comodi quindi in realtà sì questo mi piace particolarmente chiaramente in plastica e non ci possiamo fare niente perché gli altri modellini che vedremo sono in metallo il nostro secondo e ultimo modellino in plastica invece è un 737 di ryanair questo dovrebbe essere il 737 800 ma in realtà come vedete non c'è molta cura nei dettagli perché non ce neanche scritto invece di lato dovrebbe esserci scritto quantomeno un numero non dico il numero di serie per carità a ecco lei boeing b 737 max 8 quindi 800 quindi c'è scritto praticamente giù ma non c'è scritto sul modellino perché secondo me probabilmente tra il 700 e l'ottocento che sono simili esteticamente loro cambieranno solo questo e questo praticamente uguale identico quindi non ha senso comprarli entrambi su questo ci ho viaggiato chiaramente molte volte non mi piace il 737 di ryanair assolutamente i posti sono stretti e comunque non è molto comodo invece una particolare menzione va a tutto il personale di bordo che sinceramente sono molto 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 gentili è un'altra cosa ma questo non c'entra niente però ve lo dico a bordo di ryanair il piatto che io preferisco è l'unico che mi piace sono le beef lasagna quindi praticamente la classica lasagna andiamo adesso alle cose serie iniziamo da qui questo è un modellino in metallo come vedete in realtà è un po usurato dal tempo anzi lo era un po di più era molto più macchiato poi l'ho trattato e quindi in qualche modo sono riuscito a recuperarlo non tanto bene dovrei recuperarlo meglio comunque si tratta di un boeing 777 243 quindi praticamente questo lo possiamo andare a vedere perché di lato ora non so se inquadra bene però abbiamo anche il numerino questo chiaramente è un modellino in metallo quindi già stiamo parlando di una qualità molto molto più alta e questo è un 777 che più o meno praticamente parliamo degli anni 2000 stiamo parlando degli anni 2000 e bello mi piace i motori in questo caso sono abbiamo abbiamo due motori e non quattro ok su questo modello vedi perché ci sono anche quelli con quattro motori ora li vedremo qua abbiamo soltanto due motori e sono i ge 90 94 b molto bello storico praticamente vi faccio vedere adesso il tai della compagnia dai in questo caso è un 777 ovviamente dietro abbiamo sempre i numerini di serie che ci aiutano a capire che velivolo è ok questa è della tai airline 777 3d e siamo sempre più o meno sì negli anni 2099 eccetera eccetera questo come motori che sono sempre due dovrebbe avere l' rt l r r 38 92 eccolo qua molto molto carino e purtroppo su questo modellino però ci manca anche fare una cosa due mani ci manca un motore diventa abbiamo perso un motore eccolo qua è danneggiato il modellino peccato però è carino lo stesso mi sembrava giusto metterlo in esposizione passiamo ora ai quattro motori con questo modellino sempre rigorosamente in metallo della japan airlines quindi la compagnia giapponese questo ovviamente si è sempre un po usurato però vediamo che ci sono già dei dettagli in più abbiamo quattro motori due motori per lato chiaramente eccolo qua e questo velivolo praticamente se andiamo a notare questi sarebbero i finestrini in poche parole ci abbiamo dovremmo avere qui anche un secondo piano quindi dei posti in secondo piano che sono i classici posti business che sono praticamente su in questo caso è questo è un 747 747 634 quindi sempre anni 2000 questo è ottimo per il lungo raggio questi sono voli lungo raggio e come motori c'ha le fc 680 almeno quelli dovrebbe avere praticamente eccoli qua e ultimo ma non per importanza il 747 serie 400 quindi in questo caso è sempre un 747 come il japan airlines quindi sempre boing ma è la serie 400 ok quindi siamo leggermente dovremmo essere leggermente più nuovi in questo caso abbiamo sempre quattro motori abbiamo dei motori cf 680 c2 e questo è ottimo per il lungo raggio questo è sempre un volo lungo raggio come vedete lo stile esattamente lo stesso abbiamo praticamente i due diciamo piani qua nella parte anteriore infatti nella parte anteriore un po più grossetta chiaramente i quattro motori e questo qua è sempre modellino luftanza in metallo molto bello sempre da tenere ovviamente in esposizione qui in agenzia poi devo ancora sistemare meglio questo addirittura ha un'autonomia di 1220 chilometri quindi ovviamente lungo raggio peso massimo che può avere praticamente quando si solleva in a in aria e 394 tonnellate quindi parliamo di tanta tanta roba ebbene quindi riferimento a questi modellini a me piace piace averceli dentro ma non solo per guardarli anche per capire più o meno che volo è che numero di serie perché una volta i modelli per esempio quel quel vecchio modellino all'italia che abbiamo prima visto alla particolarità di avere il numero di serie stampato i nuovi modellini allora prima erano in metallo col numero di serie stampato quindi comunque ogni esemplare bene o male non dico che era unico ma era un po più raro dopo di che li hanno fatti sempre in metallo ma senza numero di serie stampato quindi io capisco soltanto che tipo di velivolo è e poi mi vado a vedere che ne so che motore monta quanti posti ha che classi tariffari aveva praticamente quindi abbiamo parlato di classi tariffari sull'altro canale sulle g vacanze quindi comunque tutti i casi al limite uno si può andare a ripescare il video da la e poi soprattutto adesso non esistono più o comunque esistono ma ce ne sono veramente pochi avevo un modellino tarkish ma non l'ho trovato lo devo cercare come mi ricordo che velivolo era era comunque abbastanza recente però ormai molte compagnie soprattutto low cost come abbiamo potuto vedere fanno dei modellini in plastica che sono un po più grandi quindi mi piacciono un po di più per la dimensione ok hanno una scala più grossa sono più grandi praticamente però purtroppo non ci stampano su quasi quasi neanche cos'è neanche se un 737 se un airbus di che tipo eccetera quindi poco dettagliati quindi più belli da vedere perché magari un po più grandi però meno dettagliati e ovviamente il materiale non è in metallo ma è in plastica quindi io preferisco i vecchi modellini praticamente possibilmente col numero di serie è possibilmente in metallo perché ci fanno vedere qual era la storia ci fanno vedere che comunque c'era quella tensione in più anche legata alla stupidaggine del modellino oltre che al vol in sé al servizio ma anche al modellino in sé che comunque deve avere più o meno tutti i dettagli e durano tanto nel tempo purtroppo non ne ho tanti però ho intenzione di comprare altri modellini se trovo modellini che mi interessano ad esempio stavo valutando l'acquisto vi dico questo vi lascio stavo valutando l'acquisto di un modellino della vecchia sovietica airlines che adesso è diventata aeroflot compagnia aerea che si diciamo che non esiste più perché insomma chiaramente la storia è andata come è andata e la conosciamo tutti e quindi mi piacerebbe anche quello metterlo qui in esposizione in ufficio anche perché è anche bello che i clienti possono entrare e vedere un po anche di storia e di ciò che è stato detto ciò spero che i miei pochi in realtà modellini pochi però interessanti vi siano piaciuti li ho presi un mercatino a torino quindi insomma non è che sono andate a prenderli chissà dove questo lo voglio specificare non la voglio fare più grossa di quella che però mi piaceva condividere questa cosa perché gli appassionati sicuramente apprezzeranno e quindi la volevo condividere per quindi perché perché ho detto per quindi perciò perciò quindi detto ciò così va bene così va meglio detto ciò io vi saluto vi abbandono e ci vediamo alla prossima settimana condividete il video con gli amici che hanno questa passione a cui piacciono i modellini di velivoli aeree di aeromobili e ci vediamo la prossima settimana al prossimo video e iscrivetevi ho già detto iscrivetevi e quindi niente ho detto tutto vi posso salutare ciao